Il Vangelo va annunciato in uscita, in cammino, ma in umiltà, vincendo la tentazione della superbia e con fiducia nell'aiuto del Signore. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella festa di San Marco Evangelista, alla quale hanno preso parte anche i cardinali consiglieri del C9. Commentando il Vangelo di Marco, che narra della missione dell'annuncio che Gesù dà ai discepoli, il Papa ha evidenziato che un predicatore deve sempre essere in cammino e non cercare un'assicurazione sulla vita, rimanendo fermo e al sicuro. Riferendosi poi alla prima lettura, tratta da una lettera di San Pietro, Francesco ha aggiunto che lo stile dell'annuncio è quello dell'umiltà, perché il Vangelo non può essere annunciato con il potere umano. E perché è necessaria questa umiltà? Proprio perché noi portiamo avanti un annuncio di umiliazione, di gloria, ma tramite l'umiliazione. E l'annuncio del Vangelo subisce la tentazione, la tentazione del potere, la tentazione della superbia, la tentazione delle mondanità, di tante mondanità che ci sono, che ci portano a predicare o a recitare, perché non è predica, un Vangelo in acquato, senza forza, un Vangelo senza Cristo crocifisso e risorto. E per questo Pietro dice, vigilatevi, vigilate, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo come leone rugente, va in giro cercando chi devorare. Resistete gli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. Se invece il diavolo non ci tenta, vuol dire che non si preoccupa di noi, perché stiamo predicando una cosa che non serve. Saremo tentati, soffriremo, ma con speranza, perché alla fine il Signore ci darà la forza per andare avanti, perché Lui agisce con noi se usciamo da noi stessi per predicare lo scandalo di Cristo crocifisso e se lo facciamo con vera umiltà. Grazie.